Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare il prototipo del gioco ufficiale della cosa Creazione della Pendragon che ringrazio veramente di cuore per avermi mandato Questo che ripeto essere un prototipo quindi assolutamente anche la scatola non è la versione finale E gioco che attualmente quando vedete questo video è in kickstarter E nel momento in cui faccio il video ha già superato in 12 ore 150.000 euro E tipo andavano chiesti tipo 45 50 una cosa del genere Pazzesco gioco ufficiale della cosa tutto quanto italiano e fatto dalla Pendragon Ve ne parlo a breve dopo la sigla Come dicevo ragazzi l'attuale gioco che vedete qui davanti è una versione prototipo E ovviamente subirà tantissime modifiche Tanto è vero che dentro questa confezione mi dispiace un po' di la verità Però non ci sono nemmeno le miniature Miniature in 3D che vi lascio l'immagine qui accanto lo potete vedere tranquillamente dal loro kickstarter Della roba ragazzi paurosa fatta veramente benissimo Evocative ci sono tutti i personaggi più famosi dei film E addirittura anche con tutti quanti gli stretch goal Alla fin fine avrete tutti quanti i personaggi dell'Outpost 31 Che vi ricordo che la storia tra l'altro ci sta per fare e sta per uscire un video fatto dal mio amico e collaboratore Pippo sul canale Che vi spiega un po' la storia e le curiosità del film di Carpenter E' ambientato in Antartide e vi ricordate in questa base tutto quanto dove c'è questa cosa che assimila Prende le sembianze di qualcuno per replicarsi E lo scopo del gioco è quello che gli umani devono riuscire a distruggere la cosa E la cosa semplicemente deve partire da questa base, da questo Outpost e arrivare nel mondo civilizzato Per iniziare ad assimilare tutta quanta la razza umana Vi faccio vedere un po' cosa c'è all'interno Vi do un pochino l'idea di come funziona ma proprio a parte non faccio più tutorial Per darvi un po' un'idea appunto sul funzionamento del gioco Anche perché è un gioco che ricorda molto da vicino Battlestar Galactica E poi vi dirò perché E vi faccio vedere un po' i contenuti all'interno appunto di questo prototipo Che mi hanno fornito e ringrazio ancora una volta La confezione è molto bella Penso che sarà quella finale, almeno la copertina Vedete la cosa bellissima Tra l'altro ufficiale dell'Universal E gioco della Pendragon Quindi questo qui è tutto nostro fatto in casa Ve lo faccio vedere ragazzi molto velocemente Anche perché è inutile fare un unboxing di un prototipo Comunque c'è il regolamento che è praticamente io penso nella versione finale Vedete non ci sono le miniature ma ci sono gli standi dei personaggi e della cosa E poi tutto quanto l'Outpost 31 Il mazzo delle carte che sono magari carte equipaggiamento Che sono magari appunto le carte per vedere se sei contagiato, sei un umano E i mazzi delle carte azioni Che potrebbero essere azioni di sabotaggio, carte azione o carte di riparazione Poi le plancettine dell'interno del gioco Che ci sono le plancettine per il meteo Ad esempio il meteo ha una parte importantissima Perché potrebbe essere cielo limpido e sereno Per quanto siamo in Antartida e si schianta dal freddo O durante una tempesta di neve come succede nel film e quindi si consumeranno molte più risorse Poi ci sono i barilotti bellini in 3D Questi bellini da morire mi garbano I barilotti di combustibile e di carburante Perché uno degli scopi del gioco è di tenere attiva L'Outpost 31 perché sennò tutti quanti moriranno congelati dal freddo E poi c'è una barca di token e qualche meeple Che al momento servono anche per rappresentare un po' la componentistica in gioco E i cani che sono sempre, vedete, gli aschi Che uno di questi potrebbe, uno o più di questi potrebbero essere la cosa Più vari token che ci sono all'interno che servono per vedere la forza della cosa quando attacca E il tabellone Vi faccio un pochino vedere com'è tutto quanto intavolato Questo qui è il tabellone dell'Outpost 31 Che è fatto veramente molto bene Penso che se non è la versione finale ci sta vicina Vedete le fasi La scheda con riassuntivo delle fasi Vi faccio vedere un pochino velocemente La scheda, questa qua giù, del meteo Qui praticamente ci sarà la traccia del meteo Vedete, bufera di neve e cose del genere Possano succedere cose molto particolari Poi abbiamo qua su in cima C'è il tracciato del sospetto Di solito i personaggi su questo tracciato qui Vedete i personaggi che hanno fin fine sono meeple di legno Ma ci saranno proprio le miniature, tra l'altro bellissime Vengono messi su un tracciato sospetto Con dei cubettini Perché mano a mano che sale il sospetto Come vedete succedono delle cose particolari Sono degli step particolari E di solito quando si va a fare il test del sangue Che poi vi faccio vedere su qualcuno Si va sempre a fare su qualcuno Più avanti nel tracciato Per vedere appunto se è la cosa o meno Quindi c'è anche questa meccanica Del sospetto Che trovo molto geniale Perché non è solo un sospetto parlato lupus in tabula Ma un sospetto anche vero e proprio Che si può vedere tenendo i tracci appunto Sul livello del sospetto Poi ci sono le carte equipaggiamento Che sono queste qua Le vedete Sempre arte che potrebbe cambiare Lancia fiamme Vi dice cosa succede E tutto quanto Coltello e quant'altro Ci sono Le carte equipaggiamento Che potrebbero essere la torcia Se va via la luce Ad esempio potrebbero essere il filo Vi ricordate per fare il test del sangue Con lancia fiamme Oppure le chiavi Perché i due modi per scappare nel gioco Sono o scappare con l'elicottero Che deve arrivare O riuscire a mettere in moto Il gatto delle nevi Per andare via dall'outpost 31 Poi c'è la gabbia con i cani Qua giù in fondo E tutte quante Vedete le stanze dell'outpost In più nella zona generatori Poi ovviamente Ah qui non ci ho messo tutti i cubetti Andrebbe tutto riempito Anche qui con le risorse che ci sono Perché c'è il cibo C'è da mangiare E' proprio un survival come gioco Però Più che resistere alla bufera Mangiando e cose del genere La cosa principale è che dovete tenere Sempre attivo il carburante E le riserve di carburante Ce le avete nella zona generatori Questi facciamo conto Che sono i nostri personaggi Il gioco è molto facile Ci sono varie sottofasi Per ogni turno Però l'idea principale E' quella che c'è un leader E il leader tiene sempre Questa scheda qui Questa è la scheda Del leader delle fasi Più ci sono le carte Dei personaggi Che abbiamo visto nel film Ci sono Norris Ognuno di loro ovviamente Ha un'abilità speciale Vedete un'equipaggiamento E tutto quanto Bennings Knowles McReady Ovviamente il grande Kurt Russell Dio lo benedica Poi Il dottor Blair Clark Gary Che era il capo Se vi ricordate Quello con la pistola E Windows Che dovrebbe essere Tipo il tecnico radio Qualcosa del genere Infatti ognuno di loro Ha delle caratteristiche E visto che quello più evocativo È il migliore Io prendo la scheda di McReady Ciascun personaggio Nel suo turno Può fare Un movimento Per forza No che lo può fare Lo deve fare Ciascun personaggio McReady Voglio giocarne Posso tranquillamente O c'ho carte Che non mi servono Come in questo caso Posso spostarmi Nel dormitorio Sprecare tutta quanta La mia azione Il personaggio Il personaggio si butta giù Quando finisce l'azione E scartare tutte le carte Per pescarne A tre tante Quando si va A giocare una carta In qualsiasi istanza Ci si trovi La dobbiamo dare al leader E il leader Non le deve mai guardare Mettiamo caso È giocato un sabotaggio Il leader La mette coperta Un altro giocatore Il secondo giocatore Gioca una carta E la mette coperta Il terzo giocatore Gioca una carta E la mette coperta Lo stesso fa il leader E alla fine Dal mazzo Quello generale In comune Il leader pesca Un'altra carta Una soltanto E la mette sopra Le mescola Facciamo conto Che i personaggi Nel frattempo Si sono spostati Per l'outpost 31 Le mescola E alla fine Queste carte qui mescolate Lui le gira Una alla volta E quando le gira Le guarda lui Poi ovviamente Le deve rivelare Agli altri giocatori E decide a chi affidarla Quindi anche se Ad esempio Vi ricordate Era McRady Il bianco Che aveva giocato Il sabotaggio È il leader Che decide A chi andrà Quella carta lì Quindi magari potrebbe dire Io non so chi L'ha giocata La do a Nails Potrebbe essere lui O magari la do a Windows Che è qua giù Quindi magari Questa carta Sabotaggio Che per forza di cose Va giocata Buttata in una stanza Che potrebbe servire La distrugge La va a sabotare Però occhio Perché il leader Può essere anche Rimosso dalla carica E potete sostituirlo Se non vi fidate Ovviamente Però se il leader È la cosa Siete rovinati Perché inizierà A giocarvi le carte contro Ad esempio potrebbe dire Ok MacReady Che si trova qua dentro Gli affido la carta Use Questo qui Windows O quello che è Questo altro E Dottor Bennings La carta Repair Quindi queste qui Sono le carte Che il Game Master Il capo Dell'Outpost 31 Il leader Affidato a ciascuno I personaggi Ovviamente Quando affidato In azione Viene fatta l'azione E vengono stesi Poi ci sono altre regole Per i cani Che i cani Ovviamente Vi ricordate Possono essere cani veri e propri Oppure Possono anche essere la cosa Sotto mettete spoglie Regola del gioco Vuole che quando siete In una stanza Da soli Non dovete fare niente Quando siete in una stanza Con uno o più giocatori Potete fare un'azione Combinata Sempre se la stanza Supporti L'azione combinata Quindi vi date manforte Però quando vi trovate In una stanza Con un altro giocatore Vi dovete passare Due di questi tre simbolini Che ciascun giocatore ha Che sono questi qui Ciascun giocatore Ne deve pescare Due dei tre che ha Guardarli E passarli All'altro giocatore O agli altri giocatori Con la regola Che se sei umano Devi darne solamente umani Se sei la cosa Puoi decidere Di darne solamente umani O di darne Contagiato Cosa cambia Alla fin fine Che se passate Un segnalino Contagiato All'altro giocatore L'altro giocatore Senza dire niente Perché non si può comunicare Ma sarà stato infettato Quindi alla fine Quel giocatore infettato Potrebbe appunto Diventare la cosa O una delle cose Perché c'è neanche La forma e il cervello È unico Ma ci possono essere Varie mutazioni Che girano per la base Come avete visto Nei due film E quindi potrebbe succedere qualcosa Se invece un giocatore Si trova nella stanza Con un giocatore Che si è dichiarato Essere la cosa Oppure se si trova Nella stanza con un cane Succederanno altre cose Comunque il contagio Va avanti Fino a che Non siete da soli Se siete da soli Non succede niente Se invece c'è anche Un altro giocatore Vi dovete passare le carte Poi L'ultima stanza importante È questa stanza del test Che quando andate a fare il test Potete fare il test O del sangue Con una sacca di plasma E facendo la prova del sangue Con la sacca di plasma Dovete per forza Per forza Andare a pescare Da quello più in alto Quindi mettiamo caso Che sul coso del sospetto McRady sia qui Questo sia Nails E questo qui sia il dottor Bennings È quello più avanti Nel sospetto di tutti Quindi essendo più avanti Con la prova del plasma Per forza la dovete fare Sul di lui Se invece avete Il lanciafiamme Il filo E a quel punto Potete fare la prova Quella famosa Che fa McRady La potete fare su chiunque Non c'è Non c'è un ordine Potete farla anche Su un giocatore Che è a livello verde E quindi praticamente È fuori da ogni tipo di accusa Ragazzi Ovviamente c'è Tantissime altre regole Tantissime Poi ci sono anche Altri mazzi di carte Ovviamente Che potete utilizzare Però il funzionamento Bene o male è questo qui È un gioco Dove si gioca A carte coperte Quindi Come vi ho detto Voi non solo Non sapete Che ha messo Sta dannatissima Carta a sabotaggio Perché potrebbe averla messa Il giocatore Che vi sta alla sinistra Però il giocatore Che vi sta alla destra Che invece è il leader Quando dopo le va a pescare E le va ad assegnare Non per forza Le va a assegnare Nell'ordine che l'ha prese Perché le mescola Quindi State attenti a tutti E soprattutto Come gioca il leader Perché se inizia a fare Troppi sabotaggi O C'è un giocatore Che ha bisogno Di una carta use Per sconfiggere la cosa O per usare L'azione di una stanza E il Il capo Dell'outpost 31 Non ve la fida Capite bene Che c'è un po' di sospetti È un gioco Tutto basato Sulle fiducia E chi c'è da eliminare Veramente molto bello Ragazzi Io posso valutare l'idea Il prodotto Non si può valutare Perché anche Fronte reto della scatola C'è non c'è nemmeno I contenuti Né niente Perché appunto È un prototipo Quindi posso valutare Unicamente l'idea E quello che ho visto Qua giù dentro Allora la mappa È bellissima Ripende praticamente Tutta la stazione Le meccaniche Sono belle Forse Non innovative Da morire Occhio Ma perché c'era già Un gioco precedente a questo Americano e inglese Tra l'altro presentato Da Elijah Wood Quello che ha fatto Frodo In elezione dell'anelli E praticamente Le meccaniche sono simili Però questo qui Le amplia E le amplia anche di tanto Perché ci mette Delle meccaniche in più Soprattutto con gli spostamenti Combattimenti E una cosa o un'altra Che a me sono piaciuti Da morire E vi dicevo Come all'inizio Ricorda molto da vicino Che battono star galattica Perché si giocano A carte coperte C'è un leader E non si gioca a carte coperte Cinque giocatori Mettono cinque carte Nel mezzo ci potrebbe essere La carta sabotaggio E quindi è un po' Come l'idea del silone All'inizio Che ti guardi intorno Nel tavolo In battono star galattica Per capire che è il silone In questo caso appunto La cosa Quindi Lo voglio rivalutare Per bene Dare tutta quanta Le mie persone affine Però vi posso dire Che fatta una partita Di prova Con mia moglie E soprattutto Viste le regole E il regolamento Nel prototipo Ce l'hanno mandato in inglese È veramente ragazzi Facilissimo Evocativo Prenda piene mani Dappertutto Ma anche supera Il vecchio gioco E supera Ugo Sder Che mi era piaciuto Anche da morire Che talate È il romanzo Da cui è tratto Il film di John Carpenter Quindi È veramente Una figata assurda Trovate il link Al kickstarter In descrizione Andatelo a fare Subito e immediatamente L'ho fatto Perché non vedo l'ora Ad avercelo con le pedine La versione finale Mi ci sfondo Ed è veramente Un titolo spettacolare Per tutti coloro Che amano giocare Un po' stelto Un po' nascosti Ma soprattutto È un gioco spettacolare Per tutti gli appassionati Della cosa Ricordo in questa versione Che dovrebbe essere Tipo la terza Una cosa del genere Comunque di John Carpenter Bellissimo ragazzi Ringrazio ancora una volta La Pendragon Per avermi dato La possibilità Di recensire Questo prototipo E trovate il link Al kickstarter Il primo link In descrizione Fatemi sapere Cosa ne pensate E ne vale la pena Ciao ragazzi Grazie a tutti